ciao ragazze oggi voglio mostrarvi come realizzare una farfalla e un fiore in gel ma sfumando i colori ho già messo su un pezzo di carta da forno un viola più scuro un lillino e del sigillante base top qualsiasi cosa preferite e mi vado a mischiare del sigillante con il viola più scuro e poi anche con il viola più chiaro non dovete farlo né troppo diciamo scoloriti né troppo poco ho già preparato una tip con il bianco senza dispersione quindi possiamo iniziare a disegnare direttamente ad utilizzare il numero 2 questo con linsky di lady nail quindi invece di cominciare da contorni questa volta cominciamo direttamente da i colori e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.